Quando voi sentite questa parola, trattativa, sappiate che ci hanno tradito. Nel 2017, a 25 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amerio, Franco Maresco realizza un nuovo film, trovando l'impulso da Letizia Battaglia, la fotografa che con i suoi scatti ha raccontato le guerre di mafia. A Letizia, Maresco affianca Ciccio Mira, impresario e organizzatore di feste in piazza, che dallo Zen di Palermo dedica una serata a Falcone e Borsellino. Nell'anno del film di Bellocchio su Tommaso Buscetta, bene ha fatto Maresco a mettere Letizia Battaglia al centro di un percorso sulla manipolazione della memoria nei confronti dei due magistrati. Memoria in bilico tra la celebrazione rituale e l'oblio, quando non è presente addirittura il disprezzo, che il regista riesce a farci percepire, con la consueta mancanza di filtri edulcoranti. in un film che vuole far discutere.